Tu sembri sospetta Non è vero What the fuck E' emerso questo tempio così Abbiamo un problema mi sa Space Gamers benvenuti a questo nuovo episodio di Dragos Dogma 2 Ragazzi oggi andiamo un po' avanti con la trama Oggi ci facciamo un po' di missioni di Back Battle E ho fatto off camera una piccola esploratina Più che altro qua a Back Battle non ho fatto nulla Questa zona me la voglio lasciare almeno all'inizio per i video Io sto continuando ad esplorare qua sopra E ho trovato il Borgo Sacro ovvero la città degli Elfi Che magari in qualche episodio ci andremo pure Anche perché vorrei trovare un telecristallo e mettercelo qui Perché arrivare qua è un macello ragazzi E io non voglio fare la strada ogni volta Quindi appena troviamo un telecristallo Faremo poi un episodio dove ci andiamo e lo mettiamo E ci facciamo le quest associate Ora concentriamoci sulla missione principale Quindi dobbiamo scoprire questa sorta di assassino Che sta rompendo le scatole all'imperatrice qui E dobbiamo aiutare il nostro contatto qua nella città Tra l'altro ho trovato anche la tizia che ci vende la casa qua a Back Battle Tu mi vuoi parlare? Ok no Sta avvicinando Mina Shoes Questo mi vuole parlare Ho trovato la casa Costa 30.000 ragazzi Possiamo tranquillamente comprarla Anche se credo che oggi sia l'ultimo episodio del Cavaliere Mistico Perché dal prossimo cambieremo Forse ci facciamo un attimo Un ritorno al volo allo stregone Con un solo episodio Perché manca un rango Per il livello massimo E poi mi sa che torniamo sul mago E ce lo facciamo tutto Eccoci qua Sermenella sei tu? Ok Ci penso io Posso proseguire? Sì È lei l'imperatrice? Sei tu? Sì forse sì è lei Come attivo la missione? Non ho ben capito come attivare la missione Forse è già attivata Dobbiamo parlare con qualcuno Vediamo Ah le pedine non ci sono con noi È vero ragazzi Dobbiamo travestirci Ok va bene Ce lo ricorderemo Tu se mi sospetta Non è vero Posso dire che comunque questo è il calice di fuoco Posso dirlo? Ma l'imperatrice che fine ha fatto? È sparita L'abisoglio parlava del mattino Mi sembra tanto il giorno qui Non ne ho idea A sto punto ne approfitterei Facciamoci la nostra slippata A casa nostra Quindi andiamo a comprarla Ah tra l'altro ragazzi Non vi ho presentato le nuove pedine È vero? Allora abbiamo Il nostro heart Che c'è il martellone Fighissimo E poi c'è lei E poi c'è lei che è Dalia Che ci serve per la missione degli elfi Perché lei può parlare con gli elfi Quindi la useremo poi in qualche altro episodio Quando andremo al borgo Appena troviamo un telecristallo ragazzi Ci facciamo quella missione lì Spero di trovarlo il più presto possibile Altrimenti devo cambiarla Perché lei è leggermente più forte Al 37 Però dipende Se non troviamo nessun telecristallo Noi arriviamo al 40 Ovviamente dovremmo cambiarla La tizia che vende la casa Dovrebbe stare da queste parti Vediamo se la ritrovo Forse lei Dammi casa Ok perfetto Tiè Tutte le solde Eccoci qua Benissimo Grazie mille Spero non sia una truffa Abitazione privata Via di Bakbattal Ah Mo si che ragioniamo Questa è una cassa del deposito Vero? Eh Si Pensavo fosse un tesoro Aspettiamo fino al mattino E Infatti Caso mi ha detto Non ho problemi a dormire di mattina E mattina Vabbè Noi Proviamo Beh Mo se non mi fanno fare la missione Mi incavolo eh Cioè E mattina E letteralmente mattina adesso Ci siamo quindi Con questa missione qua Che già mi avete rotto le scatole Ok Meno male va Tra l'altro Lei ci ha detto che Fesus Se non sbaglio Si chiama Sta nei laboratori Quindi veramente dobbiamo cercare Un modo per camuffarci Ci penso io Bene Un identikit Vai Siamo pronti a fare casino Vabbè Ma Non esageriamo eh Ci provo Poi se succede qualcosa Cattura l'assassino Cattura l'assassino Mandato di arresto del bandito Si ma l'identikit Non me l'avete detto a voce Posso leggerlo almeno Assalitore dell'imperatrice Va arrestata a vista Descrizione Porta i capelli legati dietro Ha subito una ferita al braccio destro Durante l'attentato Capelli raccolti Braccio destro ferito Non penso che si sia camuffato da guardia Cioè o meglio Io lo farei sinceramente Però Capelli Ok Assolutamente no Sono quasi finite Sì certo Come no Subito l'ho trovato Non so ragazzi Cioè dovrei andare Completamente a caso Eccolo Oh Ho capito Ferita al braccio destro Ragazzi Che cacchio ne so io Non si vede niente qua Più complicato del previsto Ok Sono finite le preghiere Eh sì No Your majesty How could this have happened Bravo Matteotti Complimenti Bravo Le ho detto che facciamo casino Ragazzi è abbastanza complicato E' trovare Come hanno fatto poi a non vederlo Se era in mezzo lì E' impossibile che era in mezzo lì Ah quindi è proprio morta Che casino abbiamo fatto Che casino abbiamo fatto Abbiamo fatto un macello raga Ma torna una colpa a menella Io torno alla capitale Non hai cattolato l'assassino Beh sì E' vero Beh ottimo inizio l'episodio ragazzi Fantastico Menella Ha fatto un casino vero Isola vulcanica Isola vulcanica E adesso chi sa il potere Eh Bella domanda Beh Care pedine Abbiamo fatto un casino Forse è meglio andarsene da qui Ma in realtà c'è un'altra missione da fare Che volevo fare Sperando Non sia un casino Come questa Questa qui Con Ambrosius Eccola qua Vediamo Dove dobbiamo andare Mappa Mappa a noi Ok da questa parte Perfetto Quindi dobbiamo uscire Da qua sopra Perfetto Ma sinceramente Personalmente parlando Io Perita al braccio adesso Non le ho viste proprio Quindi Non volevo Catturare degli innocenti Forse era Abbastanza Scriptata la cosa Cioè nel senso Non potevamo catturare nessuno La regina doveva morire Punto e basta Oh Casuel mi sta portando Alla missione Incredibile Oh è la prima volta Costa di Olta Battal Già vedo vipere qua Ammazza Sono diverse però queste Che cacchio siete Sono sauri delle rocce Aiuto 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 Calma 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 Fate calmissimi Posso fare così? Statemi vedere Finite qua Un bel boletto Oh Mo si Che ragioniamo Ciao bello Questi non dobbiamo sconfiggerli Cioè non dobbiamo tagliarli la coda Oh si Vabbè Noi colpiamo Avete fatto tutto voi ragazzi Grazie mille E gli sparo il raggio Della muerte Che tra l'altro È anche potenziato Adesso ragazzi Boom Ok stiamo nell'area Della missione Cerchiamo un po' in giro Quest'Ambrosius Oh la mazza Miseria Ma fatemi arrivare almeno Una grande Vomitone Vi è qua Vi è Ti ammazzo Volando Do sta Picchiate Non le vede Sono troppo in aria questi Ammazzo Grande Infame Bravo Art C'è un'altra vero Eccola Volo Rivolo Sti grandi Vomiti La vedo delle gente Chi è Ambrosius di voi? Eccolo qua Sembra un po' Raphael Di Baldur's Gate Frammenti di cristallo blu Ha lanciato un tizio Nell'acqua Ma com'è possibile Questa cosa? Hai parlato con Ambrosius Ho capito Ma che mi hai detto? Era un attimo distratto Cristalli blu Uno ne ho trovato Tieni Quando l'abbiamo trovato? Vabbè Non servono a nulla Va bene Si stanno prendendo le cristallo Che cos'è questo cristallo? È un Astral Vox Oddio Che palle sta cosa Mi ha fatto perdere tutti i cavoli di dialoghi Ho capito solo che il frammento è un Astral Vox Madonna Mi sta attaccando E sta rompendo le scatole L'oracolo e il forgiato del drago Potrebbero aiutarti Mamma mia Ma fatemi parlare in santa pace No 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 Ecco E' morto pure Quanto godo Quanto godo che sei morta pure tu Razza di deficiente Ora Che dobbiamo fare? Oracolo Il forgiato del drago E cacchio è il forgiato del drago Quello è un grifone gigante L'oracolo è da questa parte Mi sa che l'oracolo è quello dove abbiamo trovato Esatto La classe illusionista Qua c'è il forgiato del drago Andiamo Signor forgiato del drago Mi dia un cristallo Grande Grande Oh c'è una faglia qua E pigliala Faglia normale Non si sa mai trovare quella segreta Mi serve un forgiato del drago Sei tu? Sì è lui Quello vuole i cristalli Questo vuole il sangue Scambia oggetto Oh Oh Stiamo a prenderci il telecristallo Però ne servono 20 Freccia del castigo E pietra del trasporto Quindi i cristalli Che servono a quello Non li può dare Potenza equipaggiamento Oh Abbiamo uno slot in più Di potenziamento Dandogli il sangue del drago O il cuore Quel che è Oh Mio Dio Quanta roba Partiamo dalla missione L'astral box Meno male che lui sapeva qualcosa Meno male Fesos Eccolo qua Mi sa che dobbiamo parlare con lui Eh forse dobbiamo anche trovare Gli abiti per camuffarci Facciamo tutto qua Quindi i draghi sono neutrali Abbiamo capito Cioè fanno quello che cacchio vogliono Diciamo così Anche lui sa che siamo la Risen Perfetto Anche qui a Bakvatar Sanno tutto Parlami della Risen L'Arisen è una trascendente Sempre Chiusura Diciamo 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 Ok Ma perché lo fa Cioè il drago Perché marchia Un Cioè perché fa diventare Un tizio Una Risen Che dovrà poi ucciderlo Volontà di questo mondo Tipo una profezia Allora Parlami di te Caspita Sì Lui è un ex Risen Puoi anche rifiutare di esserlo Non lo so Dove si trova il drago Questo è molto interessante Ok mi cercherà lui Quando Ok Quando vuole lui praticamente Avvistato nel villaggio Di Arve La mia waifu Dobbiamo tornare lì Basta Ho già deciso Stavo pensando Che lui potesse essere Il protagonista Il primo Ma È difficile Credo Si è alzato però Sento dei rumori Raga Ok Non ce l'ha bisogno È morto qualcuno Va bene I cristalli Dragolinfa Ok quindi Dicevamo bene Che era sangue Lui cerca il sangue Di drago Quindi Muore gente Intanto Beh ragazzi Abbiamo parlato con un'entità Molto importante Ci ha detto cose Molto molto Interessanti Questo cos'è? Incenso Grazie Ora dove dobbiamo andare Dobbiamo andare Da questa parte Dove abbiamo preso la classe E quindi dobbiamo farci Una bella scampagnata Però Beh a questo punto Io direi di andare a dormire A casa Raga E poi Ci incamminiamo Verso l'altro L'oracolo Dobbiamo parlare con quello Ok ci siamo riposati Abbiamo depositato Un po' di roba Adesso siamo pronti A partire Verso l'oracolo Vediamo se qualcosa Tira la nostra attenzione Deve essere qualcosa Di veramente grosso In realtà ragazzi Credo che forse Sia giunto il momento Con il nuovo team Che è al nostro livello Adesso Di provare a vedere Se riusciamo ad affrontare Un drago Anche perché Con il fatto che abbiamo Sbloccato questo Forgiato del drago Che ci potenza ulteriormente Le armi Portandoli Il sangue di drago Forse è giunto il momento Di sfruttare Questa roba qua Ovviamente Le arpie Devono rompere Le scatole Dai su Datemi il rango E nessuno Ti farà male Forse Cioè voi si Mi farete male Perché morite Però Vieni qua Grande vomitona Vieni qua Dai Dai che ci arrivi Ma te Non ci è arrivato Che è arrivato ragazzi Sento urlare forte Ah C'è il grifonino Ah Bravo grifonino Bravissimo Arrivo Dai fammi arrivare A livello A livello massimo Ti voglio un sacco di bene Grifonino No no Non mi far volare Non mi far volare Via Vi poniamo a teotti Dai eh Dai eh Eccolo E' partito E' partito il matteotti Mi ha schiacciato Carichiamo l'attacco supremo Vediamo quattro anni fa adesso Eh mi ha colpito Mortacci suoi Vuoi colpire gli altri E non colpire me Grazie Anche se adesso sono un guerriero Però Colpisci gli altri Vai a cagare Vai Dai raga Che la possiamo fa Tiè Boom Eh non l'ho caricato manco al massimo eh Abbiamo fatto un bel po' di danni Oh Ignorami Ti prego Ignorami Nel painetto oscuro va Ho capito Non mi vuole ignorare Oh ti faccio cadere a terra Grande vomitone Ecco l'ecco 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 Perfetto Perfetto Sinfonia Sinfonia Ora ora Mo si che ragioniamo con i danni Oh di qua di qua di qua di qua Guarda quanto lo sciogliamo Impressionante il Matteotti Ora carichiamo al massimo Vediamo Cosa riusciamo a fare Sbrem Beh Mi sa che c'ha un K ai danni ragazzi Sapete Perché Non fa più danni se lo carichiamo al massimo Non fa danni e basta Ok forse è un'abilità che cambieremo Vediamo Oh siamo qua sopra noi Che fai No no Aia Aia Mannaggia Rialza di Matteo Sì 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 Casu grandissima Spara 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 Aspetta che faccio di nuovo questa Tieni Boom Vedete vedete Io non l'ho caricata un cavolo E ha fatto più danni Quando la carico al massimo E beh La sinfonia è partita La sinfonia di Matteo P Guarda come scioglie il grifone Non ci ferma più nessuno Grandi ragazzi Siamo troppo forti adesso Di nuovo di nuovo Matteo Di nuovo Matteo Lo massacriamo Lo massacriamo Al posto Mamma mia il grifone Veramente lo sciogliamo adesso 34 E dammi sto rango massimo Non è caso E mannaggia E anche la boss foia dell'episodio Ce la siamo fatta ragazzi Ormai è tutto easy qua Prossima destinazione del drago Forza Che ha Si palesi davanti a noi un drago Oh la miseria Ma perché dove essere Sempre Sempre Attaccato Da tutti È impressionante ragazzi Sta zona È Incredibile Mi attacca Qualsiasi cosa mi vede È arrivato pure Il grande Grosso lì No ragazzi Andatevene Io non ce la faccio È dallo scorso episodio Che stiamo combattendo Qui Sempre Nello stesso punto Siamo sempre qui Non voglio rivivere Il momento In Lords of the Fallen Ogni volta Che ci sono 250.000 nemici Basta Vorrei fare 3 metri In Santa Pace Ma mi sa che non è possibile Questi sono banditi Cosa si è Sono banditi Sono banditi Ancora Ancora Loops Banditi Goblin corazzati Il golem grosso Io non posso fare Due centimetri Senza combattere È impressionante Non vivrei mai Io in questo posto Che arrivano 250.000 nemici Appena metto Piede fuori città Mi mancherebbe altro Adesso mi attacca il grifone In città È veramente È finita Non ce la faccio più Non ce la faccio più Sono arrivo Al rango massimo Del cavaliere Dopo sta battaglia Ho affrontato 750.000 cristiani Qua E comunque Non sono arrivato Al rango massimo Va bene Allora Siamo quasi arrivati Forcomatamente Ok Dobbiamo andare Un po' più Dretti di qua E poi gira a destra Chi siamo Ci siamo Siamo all'oracolo Ci puoi dire Dove trovare questi cristalli Ah Meno male Almeno qualcuno Che mi aspetta Dimmi il segreto Dell'astralbox Una terra intrisa di calore Le isole vulcaniche Forse Quella che ci parlava Menella Sotto il livello del mare Sotto il livello del mare Un vulcano tipo Subacqueo Dobbiamo abbassare il livello del mare Cosa dobbiamo fare Villaggio di Harve Dobbiamo andare all'araga Dobbiamo andare all'araga Dobbiamo andare all'araga Molto bene Mi sa tanto che è giunto il momento Di affrontare Che è successo Che cosa Il fuoco mi ha arrostito Sono avvelenato Non sto capendo Dicevo che mi sa Tanto che è giunto il momento Di affrontare il nostro primo drago Ragazzi Perché anche il forgiore del drago Ci ha parlato Che a Harve c'era un drago E quindi mi sa Tanto che è giunto il momento Di andare lì Per fortuna Ma si può raggiungere Con le pietre del teletrasporto Non siamo proprio messi Benissimo Vorrei Ah è lui forse Ok Siamo riposati quindi Mi sa che era scriptato Perché sta arrivando il drago Forse Sapete È la prima volta Che ti vedo Figlio mio Ma io non ho parlato di quello che c'era Qui c'era Era un rullo di più Rullo di vita Che i suoi armi Siamo lo guardano Anche in morte Come si 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 Beh, penso che sia un'entità molto antica, allora. O è lui? Molto strano, sto tizio. Completamente a caso. Cioè, sto tizio ci ha ingaggiato così. Che sta succedendo? Holy shit! What the fuck? È emerso questo tempio così? Ah, sempre la caverna dei Sauri, raga. Ok, siamo riposati ragazzi, fortemente. Eh, dobbiamo andare lì, forse? Dentro la caverna burrascosa si è aperto un passaggio che conduce a delle rovine finora sconosciute. Dovresti avventurarti nel loro interno e vedere cosa celano. Allora, parliamo con la Best Wifu prima di tutto. Aspetta, aspetta, il tempio è abissale. Un attimo su. Andiamo a parlare prima della Best Wifu. Anche perché, cioè, insomma, il suo villaggio è appena apparso un tempio dal nulla. È successo un casino. Mi sa che non se ne è fotte niente. Ciao! Lennart! Sei vivo allora! Guerriero? Codice del soldato. Grazie, Lennart! Però non posso usarlo io. Libro che insegna una capacità accessoriale riservata ai guerrieri. Usa per imparare la furia impetuosa. Vabbè, noi lo usiamo. Ma, cioè, non possiamo usarlo né su caso né su me stesso. Beh, ficchiamoci nel tempio abissale, ragazzi. Che vi devo dire? Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Vi risparmio sicuramente per l'ennesima volta sta caverna. Perché è tipo... Sarebbe la terza volta che la faccio vedere, quindi... Ci vediamo direttamente al tempio. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo all'entrata del tempio. Allora, sono arrivato al rango 10 a livello massimo del Cavaliere Mistico. Quindi sì, confermo che sarà l'ultimo episodio. Ma adesso immergiamoci qua dentro nella trama dove, figa, siamo finiti. Esploriamo bene qua, ragazzi. Magari è tipo un dungeon a tempo. Tipo facciamo le nostre cose e poi sparisce. Non vorrei che fosse la dimora del drago questa, ragazzi. Siamo già al finale. Oddio, non credo. Non lo so. C'è una cassa, però. Almeno, una consolazione. Cos'è quella roba? Siamo attenti, eh. Cos'è sta roba? Ah, è il buon arca, questo. Siamo attenti, eh. Siamo attenti, e così dovrei fare un nuovo. Sì, potrei accettare il mondo vero come la mia. come? come? non hai la tua scuola? questa battaglia sarà in grado eppure non hai la mia morte allora sei non sei Questo posto è apparso all'improvviso Non so cosa cerco effettivamente Oh, ecco qua Il segreto dell'Astral Vox Quindi da qua che viene l'Astral Vox Come hanno fatto a recuperare i cristalli Se era sommerso il tempio? Le anime frammentate degli Arisen Tipo una tomba degli Arisen Questa, fichessima Quindi l'Astral Vox è l'anima cristallizzata di un Arisen Chi è l'Onniveggente? Non è quella l'entità che ci parla Forse L'Astral Vox L'Astral Vox L'Astral Vox L'Astral Vox Quindi si è confermato che l'Onniveggente è diverso dal drago Sono due entità diverse Una spada? Ma io non posso usare la spada Arisen Mine own In fact Refined in purest dragon blood Alas The ages have taken their toll Tis as withered as mine own flesh Yet Mayhap The Batali's profane magics Would be capable of drawing forth its late potency If that is what you seek Arisen Then go on to their stronghold I believe tis there you shall find the means to achieve it Una spada che non possiamo usare però Mannaggia Abbiamo un problema mi sa Lama Sacrilega smussata Holy shit Ragazzi che cacca abbiamo trovato qua Lama Sacrilega d'Ambrosius Ok Ho visto una statua risvegliarsi Io un po' me la sto facendo sotto Cerchiamo di uscire da qui adesso Altra cassettina Dai una qualcosa per me Dai scusami eh Vietate il trasporto Questa mi piace Io non so se uscire da dove sono entrato Oppure proseguire Proseguiamo Vediamo un po' dove ci porta sta roba Cos'è sta roba Ho paura Poi c'è una mano gigante Non è che la statua Cosa dobbiamo fare qui Esamina Spatina Dove ci porti? Sopra Stiamo uscendo forse Credo Spero almeno Poi dobbiamo rompere Aspetta 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 No Mi sa che ci vuole una bomba qua Oh salve Beh Mi sa tanto Qua K da evocatore Ho sentito Roba Ecco infatti Mortacci vostra Affancavo Oh ma Fatemi capire qualcosa Almeno Miseria Oh cacchio di scudo Via di qua Muori Pezzo di vuoto Ma quali siamo bloccati qua raga Non possiamo proseguire Ma no che non si va di qua Ok sto scherzando raga Mi sa che si va di qua Valve Io rubo tutto qua Dente d'argento Grazie Dov'è figa Siamo finiti Camicia da abbinatore Grazie Grazie Art Siamo nelle segrete Segrete del tempio Forse Pantoloni da lavoro Ok Rompi qua Aspetta Prigione provvisoria Che culo Che culo che abbiamo ancora St'a chiave noi Dobbiamo già di comprarla Perfetto Anello della profusione E poi Tubero marcio Che schifo Chiave provvisoria e prigione Nice Abbiamo trovato a terra Fantastico Di qua Sembra essere tipo una chiesetta Di qua si esce Ma raga che figata Qua non possiamo andare a nessuna parte Immagino Perché Esatto No no ragazzi aiutatemi Sono già caduto una volta qui Ok Qua non si può andare Quindi abbiamo andato in quella chiesetta Quanto adoro le rovine così ragazzi E' uscita dal nulla Super segretissime Datemi idee su Ridatemi Più che altro vorrei capire Se c'è un modo per tornare indietro Oppure Lo sto soltanto esplorando Secondo me lo sto soltanto esplorando Io mi sto ficcando ovunque raga Non sto capendo manco Dove sto andando Fatemi accendere la luce almeno Vediamo e vedete qualcosa Questa cassa Me piasa Manto Dell'unificatore Che paroloni Vediamo qua cosa c'è Prima di tutto Qui Oh il parkour di Matteotti Che c'è una cassa lì Grande Matteo Art è caduto Poverino E l'isir universale Ok Torniamo indietro Via di qua Ragazzi non mi fate cadere però Oh altra cassa Perfetto Rompi tutto Damme tutto qua Qualcosa di Pico di nuovo Schergiare il cuore Va bene Ok bello ragazzi Un'esplorazione Senza un nemico Non ci sto credendo È il mio sogno Abito Dell'osserva stelle Ah e qua torniamo indietro Raga Ok Andiamo verso Battalbero Eh sì Beh torniamo da Ambrosius A questo punto ragazzi Diamogli la spada Cioè cerchiamo di trovare Un modo per Riforgiarla Una cosa del genere Che bello ragazzi Abbiamo fatto Metri e metri Senza nemici Perché ha ammazzato I gabbiani raga Ah si è spostato Ambrosius Prima stava qua E adesso È tornato Praticamente in città È tornato addirittura Al palazzo Ok dirigiamoci Direttamente al palazzo Parliamo con lui Forse ci darà Qualche indumento Anche per Infiltrarci nel laboratorio Per parlare con Fesus Non so perché dovrebbe darcelo Però a me servono Quelle cose Quindi Speriamo ce le dia lui Ragazzi Che vi dicevo io Sui mostri Nella città Completamente A caso Nel mentre arrivavo Buonasera Eh Però Fammi arrivare Attacca gli altri Perché attacchi subito me Mannaggia te Minchia Ragazzi Non ci posso credere Comunque Anche in città Rompo le scatole Francia un momento Di tranquillità Ragazzi Vi potete aiutare la Risen Grazie No nessuno Va bene Va bene così Carichiamo Vediamo un po' Quanti anni facciamo La chimera La chimera dovrebbe essere Ultra fattibile Oramai Porca io Ma che danno abbiamo fatto Via qua Viene Mi spiace Mi spiace Proprio Sinfonia di mattiocchi Sua chimera Non apposta E beccate questo C'è un massacrano Dai 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 Non ci ferma Nessuno Dovremmo cercare Di uccidere La capra Secondo me Capra È un pezzo Di vomitone Tiè Vabbè Ho colpito Tutto così Si si vula Oh no Heart Heart sulla cuda Arrivo Bravissimi Vai di nuovo Sinfonia Di nuovo Di nuovo Di nuovo Dai Oh yeah Ci siamo Pensa che la testa Di leone è morta Quindi stiamo facendo Molti danni Dovremmo andare Sulla capra Fatemi salare Salare Anzi io sul serpente Il serpente è anche un pezzo di vomito Vettabilina Tiè Colpito Si perfetto Oh è cadio No il veleno Aia Oh è caduto Arrivo Che cacchio è successo Chi mi ha sparato Pazzi Pazzi tutti Oh la capra La capra Dai 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 Ok Via Sulla capra Non ci ferma Nessuno Mentre facciamo Roteare La nostra Doppia lancia La coda L'abbiamo spaccata L'abbiamo un po' Massacrata Questa Come dobbiamo fare Ucciderti Mora Ti abbiamo ucciso Ti abbiamo distrutto Tutto Cosa dobbiamo colpire Ora Non lo so Vabbè Colpiamo a caso Però non sia morto Nessuna NPC Sì Altrimenti sarebbe un problema Vabbè i cuori ce li abbiamo Le pesce importanti Non dobbiamo farli morire Mi carico Perfetto Vabbè raga Massacrata proprio Vediamo al massimo Boom No ragazzi Secondo me al massimo I danni sono sempre gli stessi Ha un cap Sicuro Ok Ma in realtà Non so dove colpirla adesso Sinceramente Facciamo così E basta Ah Proprio in scioltezza Micchia Che bello Ammazzare ora le chimere Mamma mamma Sciogliamo tutto Devastata La coda ha un drop particolare Bisogna di sé Che è illuminata Chi è? Vuoi comprare qualcosa? Aspetta Vivere i dolci? Perché? Liquore di salamandra Ti faccio pure lo sconto Ireland Ho capito ma Compra il liquore 2000 Grazie Che te devo dire È anche tipo leggendario Come oggetto What the fuck Che cacchio è? La ricetta di questo liquore È segreta e ben custodita Ben è Ben Bevendolo Si ha un temporaneo Aumento di vigore Ma sembra che causi Anche effetti collaterali Vabbè io volevo soltanto Il drop della cosa Pelle di bestia Bel drop del cavolo Bene Ora Anche la chimera in città Posso Andare ad Ambrosius Ho un appuntamento Col signore Ambrosius Io Posso entrare? Eh mi sa di no Non voglio mettermi nei guai Già abbiamo ucciso Abbiamo fatto uccidere la regina Non voglio mettermi nei guai Vado prima a dormire Anzi facciamo così Andiamo a spiarci Un po' Che abilità abbiamo sbloccato Con l'ultimo rango Del cavaliere mistico E torniamo stregone Raga così Mandiamo al massimo Anche lo stregone E poi torniamo A mago Ok come abilità Non ne abbiamo di nuove Quindi Dobbiamo soltanto Trovare il maestro Del cavaliere mistico Che dono l'idea di chi sia Quindi questo l'abbiamo fatto Però abbiamo avuto Un'altra capacità Atleta Reduce il consumo Della resistenza Mentre corre Che meraviglia Matteotti Ritorna stregone Per poco Ma ci ritorna Io vorrei fare anche L'illusionista Però no Secondo me Possiamo fare stregone Poi torniamo mago E poi distruttore Ragazzi Così siamo Belli settati Pronti Se dovessimo trovare Poi l'eroe leggendario Abbiamo tutto quello Che ci serve Quindi Andiamo di stregone Ok ragazzi Io ho comprato Il nuovo bastone Stavo anche vedendo Un po' Tra i mercanti Se qualcuno Mi vendesse L'armatura Degli scienziati L'uniforme Ma A quanto pare Nessuno me la vende E quindi Non ho idea Di come entrare In quei laboratori lì Sono entrato ragazzi Sono entrato Qua sotto Ho completamente Ignorato Quella cosa Quella guardia Speriamo che Nessuno Mi ingaggi Magia proibita Allora Ragazzi La musica è cambiata Stavo per fare un volo Che voi non avete idea Aspetta la guardia Io metto qua Grande nascondiglio Ma te Snecchi 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 Mi hai visto Vero Ciao Mambrosius Dove cacchio È finito Qua c'è un drago Pietrificato Morto Lasciatemi in pace Lasciatemi in pace Noi stiamo urilliando In mezzo Al cavolo Ho paura Do paura Muoviti Matte Muoviti Ah la missiva segreta Ok va bene Dobbiamo parlare con Con Sven Meno male Ci siamo arrivati Non so effettivamente Se fidarmi al 100% Di Ambrosius Ok era un dialogo Tra sé e sé Grazie Ambrosius Ho trovato la spada io Ah una nuova hand Hai qualche business Spada Yeah E' apparso un tempio dal nulla Volevo solo dire quello Tranquillo Ambrosius Quindi per sconfiggere Un astral box Dobbiamo usare Un astral box Più potente Beh io non gliela Consegnerai Sinceramente Permettere di trovarli Per voi Ok ragazzi Dobbiamo iniziare a usare i draghi Ma perché lo stiamo facendo Perché Perché ci serve effettivamente L'astral box Più forte Per contrastare Quello del falso re Secondo me ci stiamo mettendo Nei guai serie Grazie Grazie Mi permette di rubare il laboratorio Grazie mille Ci siamo ragazzi Dobbiamo affrontare i draghi Perfetto Perfetto Il chiaro di luna Si sono rivelate di vital importanza Dell'impresa Di creare una forma cristallizzata Del potere Che controlla le pedine L'astral box Ora che abbiamo avuto successo Di certo Il giorno in cui Lord Phasus Controllerà il drago E ormai Alle porte Eccolo qua Il piano di Lord Phasus Vuole controllare il drago Per probabilmente Avere un'arma Così potente Da essere Non solo il sovrano O di Vermouth O Non lo so Di qualsiasi cosa Penso che voglia Controllare il drago rosso Quello che abbiamo visto Inizio serie Lettera per Lord Phasus Grazie Grazie mille Ho rubato tutto Perfetto Dopo un po' La ricerca sulla magia proibita Divenne Giusto Un pretesto Ridotta A un intrattenimento Per un gruppetto di stregoni Avanti con l'età Fu però Lord Phasus Con un terzo Dei loro anni E tre volte Il loro acume A riportare quest'arte Ai fasti di un tempo E fu lo stesso Lord Phasus A salvarmi Del mio tedioso Lavoro di archivista E darmi speranza Per il futuro Sto bene Già dal nostro Primo incontro Che solo lui Può svelare La verità Di questo mondo Praticamente Stiamo aiutando I cattivi Perché Ambrosius Lavora Per Lord Phasus E Lord Phasus Mi sa tanto Che sarà Il cattivo finale Oh Grazie mille Perfetto Sono contentissimo Pietro del cercatore Rovine di Agamen Abbiamo trovato la gorgune ragazzi Quella che ci ha attaccato Forse Non lo so Le rue Conoscete la leggenda Delle rue De Naus Leggiamola Ho subito pensato All'eroe leggendario Leggiamo subito Quella bestia era grande Il doppio di qualsiasi uomo Le ciocche fatte Di serpenti Sibilanti Il viso ricordava Una donna Dell'espressione crudele Ogni soldato Che la vide Venne tramutato in pietra Con incisa sul volto L'espressione di terrore Dei suoi ultimi momenti di vita Ma De Naus Era svelto E Non conosceva esitazione Decapita la creatura Con un sol fendente Così lesto Che essa Non capì Di star morendo E il suo sguardo Permase Per pietrificare Altri malcapitati Mi sono dimenticato Di vedere D'Ambrosius Quante Quante linfe Ha bisogno Non me lo dice ragazzi Quindi mi sa tanto Che c'è L'obiettivo È proprio Uccidere un drago Cioè non è tanto Il drop che ci dà Che si Serve ad Ambrosius Ma è proprio il momento Giunto il momento Di uccidere un drago E quindi Noi ci salutiamo E ci vediamo Al prossimo episodio Dove facciamo Una bella parte esplorativa Alla ricerca Di un drago Ragazzi miei Grazie per la visione E noi ci vediamo Ad un prossimo video